Felicità perché viene ricordato mio figlio, spero che rimarrà per i posteri, non verrà dimenticato, è abbandonato alla sua morte. L'emozione è negli occhi e nella voce di tutti ed è palese nella difficoltà a parlare di chiunque, di Domenico Senatore, il papà di Vittorio, ma anche del dirigente scolastico Nicola Annunziata, il sindaco di Salerno, il presidente del consiglio d'istituto Felice Giannini e il vescovo Andrea Bellanti, fino anche il deputato Piero De Luca, tutti quelli che partecipano alla cerimonia con la quale l'aula magna dell'istituto di istruzione superiore da Vinci Genovesi di Salerno questa mattina è stata intitolata ai due studenti che non potranno mai più concludere il percorso nella scuola, ma il cui ricordo accompagnerà tutti i compagni. Melissa Larocca e Vittorio Senatore erano due alunni morti entrambi tragicamente a pochi giorni di distanza nei mesi scorsi all'età di 15 e 16 anni. Melissa, di San Mango Piemonte, alla cerimonia questa mattina era presente anche il sindaco, ebbe un malore a ottobre mentre era alla lavagna in classe. Vittorio, originario di Cetara, a settembre perse la vita in un incidente in scooter. Il vescovo di Salerno, appena reduce da un viaggio in terra santa, usa l'immagine della tomba di Gesù per cercare di consolare famiglie e compagni, ma poi tocca il cuore di tutti quando racconta che nel pomeriggio di oggi saranno celebrati i funerali di un ragazzo disabile, Nicolò, al quale era molto legato e che è morto a causa di una buca che ha bloccato la carrozzina sulla quale si muoveva. La commozione però rapisce tutti quando nell'aula magna prendono la parola i genitori con il papà di Melissa che legge una lettera. Poi è la volta della mamma di Vittorio e infine le due mamme insieme alzano il telo nero come la morte che scopre quella targa, ora dorata, con il nome dei loro angeli e riaccende nel ricordo di chi la guarderà una sorta di presenza eterna di due ragazzi troppo presto strappati alla vita.